I deceduti odierni nelle ultime 24 ore sono 17, raggiungendo un totale in regione dall'inizio della pandemia di 153 vittime con percentuale del 98,7 di precedenti patologie. Il bollettino del Gores Marche annuncia la scomparsa di una 74enne di Senigallia, 5 persone di Ancona con età media 80 anni, una 89enne e 76enne di Fano, 6 persone di Pesaro età media 85 anni e un 81enne di Sassoferrato e un 54enne di Monte San Giusto. Ieri è stata registrata anche la prima vittima più giovane nelle Marche, la 27enne Giorgia Bruscia, residente a Pesaro. La ragazza aveva già delle patologie ed è stata più facile e rapido il contagio del virus. Le sue condizioni si sono aggravate giorno dopo giorno fino al decesso. I test odierni effettuati salgono a 5170, i casi positivi risultano 1981, 244 in più rispetto al bollettino di ieri. Dato più alto dall'inizio della pandemia, in provincia di Pesaro e Urbino sono 1099 i casi, 116 in più. I ricoveri in terapia intensiva 138, 34 a Marche Nord, 33 al Torrette di Ancona e 6 a Urbino. I ricoveri nei reparti non intensivi risultano 453, semi-intensiva in 154, mentre i casi di isolamento domiciliare 4.934. In provincia di Pesaro gli asintomatici sono 1.744, invece i sintomatici 419. I ricoveri in degenze post-critiche sono 97, 120 in più rispetto a ieri. I dimessi restano invariati, finora 45. Nel dettaglio nel comune di Fano i positivi al Covid-19 sono 170, mentre a Pesaro 453, risultando il comune con i casi più alti nelle Marche. Seguono poi i comuni di Mondolfo con 26, Monte Labate con 23, Urbino con 30 e Vallefoglia con 59 casi. Finora nessun caso positivo al virus registrato nei comuni di Cantiano, Fratterosa, Frontone, Monte Porzio, Peglio, Sassofeltro e Tavoleto.